Com'è andato quest'anno scolastico e progetti per quest'estate? È andato bene, pensavo che la scuola fosse molto più difficile, invece è andata bene. Poi la classe mi sono trovata molto bene, anche lo studio alla fine non è tantissimo, quindi mi è piaciuto molto e poi è volato. Non è vero, è una faccia, lo studio è tantissimo, però mi piace la scuola e si va avanti. Quest'anno passiamo e quest'estate si va in vacanza. È stato un anno difficile, complicato, forse per ora è il più complicato di tutti, però ce l'abbiamo fatta e speriamo che sia stato di divertirsi. Bene, l'anno scolastico, progetti per quest'estate, divertisti e non pensare alla scuola. Io all'inizio pensavo di essere bocciata, però ce l'ho fatta, magari mi danno solo una materia e quest'anno al mare con loro tre. Tutto a posto per ora, poco orna, ho progetti di viaggiare, divertirmi, non studiare, studierò il 10 di settembre se va bene e se no si fa quando si diventa. Complessivamente bene e niente, solo che quest'estate mi toccherà studiare matematica, però vabbè si prenderà con filosofia. Voi in Irlanda e invece da recuperare ho due materie che sarebbero matematica e inglese. È andato tutto bene, abbiamo legato molto con i compagni di classe e quest'estate è al mare. È andato alti e bassi a dicembre, però adesso ho recuperato tutte le materie a parte latino e quest'estate divertimento e basta, non si torna neanche a casa. Alti e bassi, ho recuperato alla fine e progetti per quest'estate, riposarsi e vabbè studiare però, riposarsi principalmente, sì. Allora, traumatico, comunque dai, è abbastanza bene, comunque quest'estate ci si diverte e basta. L'anno scolastico è andato abbastanza bene e quindi quest'estate non si fa nulla. Anche a me è andato bene, ho avuto alti e bassi ma non si fa nulla neanche in estate. È andato male, malino, sono stata rimandata però, vabbè, quest'estate non si fa lo stesso niente. È andato un po' su, un po' giù, alti e bassi, però alla fine ce l'abbiamo abbastanza fatta, via. Quest'estate si diverte. Quest'anno scolastico non è andato benissimo, ci sono stati alti e bassi, però speriamo bene a fine anno, cioè per le pagelle. E quest'estate vado in Albania. Scuola tutto bene, ho recuperato tutto alla fine. Siamo andati da Dio e programmi per quest'estate, spaccare come sempre. Si va in Sardegna e basta. Intenso, bello però, un po', un po' difficile. Quest'estate? Bah, regà, divertitemi da quest'estate, dai. Ciao, 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 ciao.